Selesao contro Bomber Gang, 1 a 0, 1 a 0 per la Selesao, come va questa Selesao nel primo tempo? Bene bene E la squadra avversaria come sono? No no, corrono abbastanza, veloci Perfetto, il secondo tempo gestirete questo vantaggio? No, lo devo migliorare Deve cercare di chiudere il match Perfetto, diamo un po' le spiegazioni di guida al capitano Marco Schiattarella Sentiamo, ascoltiamo Però ho capito, in modo che ci alterniamo nel momento in cui parte il lancio da qua Viene uno a sossegno e viene a calciare diretto, capito? E manco lui all'altra parte Andiamo a vedere il Bomber Gang Ha subito un lieve infortunio Già che si è alzato, già è buono questo segno Bomber Aliberti, 1 a 0 il puntigio, che succede? Eh, si è fatto male Perché si indaglia con il suo papillo Vabbè, già che è in piedi comunque, già è una buona notizia E comunque siamo un po' rimaneggiati Vabbè, però si è fatto male, adesso già avete subito l'1 a 0 Come sta andando questo primo tempo? Noi stiamo giocando non male, però siamo più forti Siete più forti? Ah, siamo più forti, però voi siete più giovani e correte di più Vabbè, in bocca al lupo la Bomber Gang Ciao ragazzi, eccoci qua con il migliore della partita New Selesao contro Bomber Gang, Livio Barone E il portiere migliore dei suoi, si chiama, mi ricordi? Grande, Giuseppe Giuseppe Grande Giuseppe, partiamo da te Primo tempo 1 a 0 per loro Ve la potete giocare? Poi l'infortunio e poi cosa è successo? Niente, poi dopo l'abbiamo mollato Che possiamo farci? Vabbè, sarà per la prossima Vi stavate giocando la partita al primo tempo con una delle migliori del torneo Anche il secondo tempo, che non giova abbastanza bene fino a quando l'abbiamo detto Poi... Lei la superiorità numerica? Anche la forza degli avversari Beh, comunque si sono sempre una squadra ottima Va bene, Giuseppe, comunque in bocca al lupo Purtroppo oggi sfortunati Ve la potete giocare tranquillamente dopo un ottimo parigi della settimana scorsa Vabbè, vi giocherete sicuramente le partite rimanenti Il torneo è ancora lungo Ciao Giuseppe, in bocca al lupo al Bomber Gang Perfetto, grande segno di fair play Livio Barone Livio, hai scaleppato sulla fascia destra Hai dominato su quella fascia Abbiamo giocare tutti quanti molto bene La squadra ci ha dato abbastanza bene Purtroppo ci mancano sempre molti giocatori Però... Non riuscite mai a essere al completo Comunque, quindi se già siete competitivi così Figuriamoci al completo Sarete sicuramente la squadra da battere Sì, sicuramente la squadra al completo è più forte Però non ci possiamo lamentare Un episodio sfortunato per gli avversari Che in parità numerica Come sarebbe andato a finire? Sicuramente era molto più dura A vincere questa partita Però, insomma, comunque ce l'abbiamo fatta Siete riusciti alla grande Comunque, la mia squadra Mi ha piaciuto come sempre alla grande Perfetto Comunque, vabbè, tu che sei uno dei titolari Insieme a quei pochi oggi che c'erano Avete dato sempre il meglio Sì, sì Per la causa Livio, questa news arese appunto alla vittoria C'è qualche squadra che hai visto che temete Più delle altre Qualcuna sì Qualcuna sì Però sono molto fiducioso Lo farete da protagonista Speriamo Perfetto Un ringraziamento o una dedica per questo premio? La dedica è la mia squadra Come sempre gioco alla grande Perfetto In bocca al lupo all'anno i selezau Ciao Livio Barone Ciao a tutti